Bene, anche oggi siamo nel Siccomario e oggi ancora vi parlo di persone. Oggi voglio presentare un artista del Siccomario che è riuscito a unire arte e economia circolare. Error Maker si occupa di riciclare materiale industriale, industriale molto spinto, per creare delle sculture luminose. Il mio intento è quello della ricerca, la ricerca attraverso le lande desolate del rifiuto. Vado in queste enormi discariche dove ci sono montagne enormi di piombo, rame, acciaio, alluminio, zinco, ferro e inizio la ricerca. Il materiale arriva in questa discarica. Io, poco prima di essere prese e portate nelle fonderie del Bresciano, ti do una nuova vita. Non torni a fare ciò che eri prima, fai qualcosa di diverso. Ecco, attraverso questo materiale io creo queste sculture luminose che servono non tanto per illuminare, ma per creare degli effetti particolari all'interno di certi ambienti o comunque di case, di uffici, di negozi. Grazie. Grazie.